Rieccoci da Lampedusa. Oggi giornata spettacolare per un girettino in barca anche perché se puoi visitare le spiagge più belle devi farlo via mare. Per la giornata di oggi abbiamo optato per un bel girettino in barca con Gianni Barcazzorro. Sono già venuto quattro anni fa qui e mi sono trovato divinamente. Vi farò vedere tutte le spiagge di oggi, cosa mangeremo e tanta roba, tanta roba. Questa intanto è la barchettina, noi siamo sul ponte superiore. Tanta roba. Comunque non sono abituato a tutto questo sballonzolio. Sballonzolio. E' una barca. Prima tappa di oggi. Tappa cara. Perché? Non ho capito. Perché qui, storicamente, contrabbandavano il tabacco dalla costa tunisica. I canne. No, tabacco. Che ne sai? Guardate che mare. Guardate che mare. Sembra che le barche stiano galleggiando letteralmente sull'acqua. E cosa fai quindi? Il nostro sport preferito è questo. Prossima tappa. Spiaggia dei conigli. Ma ve la farò vedere solo da qua, perché la vedrete nel prossimo video. E comunque è quella là in fondo. Giusto? No. Voglio stare in storia. Ora ci aspetto un bel pranzettino a bordo. Va, che bel piattino di antipasto. Grazie. Grazie, grazie. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Sottoposta, le triglie, il patè di olive verdi, la ciugina sul pomodoro, la pastiglia d'inverno, la caponata a lampiatusana è la nostra, la pizza, l'ospinzione, la panella con farina di cecipitta, le alici marinati e scampi, quelli centrali, pochi dei scampi quelli centrali. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Andiamo ora di qua pure, adesso passiamo. Luca, com'è? Se vuole che pare il pizzo, se questa fase da 3-3-3-4, ci sono 30 mesi di buon. Mmm, ci sta. Ci sta. Cittazione. È assurdo? No, è spaziale. Oh, non va via. Cala. Pulcino. Pulcino. No, non va via. bella bella calapulce bene, muoviamoci verso la prossima destinazione destinazione mare destinazione mare fa niente perché tanto adesso non vi interessa che è in navigazione la barca, guardate visto, non vi interessa vedere il mare che è così però è figo siamo arrivati nella baia dell'acqua dolce perché gritti, perché gritti baia dell'acqua dolce perché vedete quelle piante là in fondo adesso vi faccio vedere quelle piante là perché lì c'è acqua dolce filtrata dalla montagna naturale o frizzante ferrarelle che acqua che acqua sì 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 finisce così Francesca questo girettino in barca che bello tante belle spiaggette bellissima tanta roba tanta roba torniamo al porto giro in barca giro in barca estenuante sono stanchissimo e distrutto a voi è piaciuto stupendo da 10 senza parole è rimasto senza parole e niente finisce così questo video del giretto in barca a lampedusa vi ricordo barca a zorro vi lascio il link nei suoi social qua sotto ci vediamo al prossimo video vedro gabri no vero ciao 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 ciao